Oggi nasce a Genova con questa firma anche la possibilità di utilizzare il primo acceleratore sulla Blue Economy, il primo acceleratore non d'Italia ma del Mediterraneo e direi anche d'Europa. Ce n'è uno piccolino ma fa altre cose in Portogallo che non è nel Mediterraneo. Un acceleratore a differenza di un incubatore, ormai tutti questi termini tecnici che sono legati alla nuova finanza, sono all'ordine del giorno, è un qualcosa che serve per aiutare le aziende che abbiano già un track record, che abbiano già un modello di business, abbiano già un team che lo governa. Quindi a differenza delle aziende che vanno in un incubatore, che sono start up, che ancora devono iniziare la loro vita, aziende che hanno già iniziato, che hanno un modello che funziona ma che hanno bisogno di fare il salto di qualità. La parte importante è quella che fa Deloitte con noi, è quella di poter rendere edotto il mondo intero legato al mondo della Blue Economy su quelle che sono le iniziative che partono da Genova. Quindi avremo qui da noi tutti quei progetti già operativi che possono svilupparsi e avremo la possibilità di farli conoscere in tutto il mondo in tempo reale. Abbiamo individuato la sede che sarà Palazzo Verde, che stiamo iniziando a ristrutturare. Io credo che durante il mese di settembre dovremo essere in grado di renderlo operativo, per cui se non è ottobre o inizio di novembre, ma sicuramente entro quest'anno. Troverà tutte le strutture che fanno capo al Comune, alle strutture che fanno capo al nostro partner, le strutture che fanno capo ai progetti europei, quindi tutta una serie di figure e di opportunità con cui sondare i mercati e capire cosa è meglio fare per provare a fare il salto di qualità. Le start-up che sono state realizzate negli ultimi anni potrebbero adesso provare a crescere ulteriormente, per cui c'è già sicuramente un parterre di aziende che possono venirci a trovare e provare a trovare i finanziamenti e i partner giusti per continuare a crescere. L'economia del mare vale il 3% del PIL nazionale e il moltiplicatore ancora una volta 3, quindi vuol dire che sono più o meno 135-140 miliardi, di cui un terzo prodotto a Genova e due terzi nel nord-ovest fuori. Beh, nostra ambizione è fare in modo che anche chi è fuori, avendo Genova un acceleratore, quindi chi è fuori e chi si occupa di qualcosa legato al mare, venga a Genova per portare la sua sede e trovare le modalità per fare il salto di qualità. Sì, diciamo che Deloitte, sulla base delle esperienze che ha già fatto in termini di accelerazioni e di innovazione per le aziende e per i territori, darà sicuramente tutto l'expertise e il network globale a cui possiamo accedere tramite i nostri colleghi in giro per il mondo per portare le migliori soluzioni di innovazione all'interno di questa iniziativa, di cui siamo onorati di partecipare insieme al Comune. Ma il nostro ruolo, che è quello forse che ci riesce meglio, è di capire le aziende e la necessità di innovazione che essi hanno, aziende o territori, e di fornirgli tramite un approccio di open innovation, quindi aperto alle start-up, soluzioni che possano implementare e sicuramente migliorare e innovare il loro business.